Serena fai complimenti a tua madre perché questa lasagna è di una bontà incredibile mamma mia tua madre è la regina delle lasagne buonissima anche se mo alle sette del bagno Serena tu credi veramente in questa cosa qui in questa urban legend in questa non è vero allora chiudi anche nei folletti e sce chimiche vabbè la digestione con l'acqua fredda non dire minchiate ma hai mai visto una recinzione di una scena del crimine con il ris il coroner che spennella il corpo morto per lasagna dai Serena dai l'acqua è fredda guia sono due teglie di lasagna Serena tu lo sai che le madri italiane in particolare usano la politica del terrore con i figli perché è un modo di controllare questo è una cosa ti hanno inculcato questa idea da evidentemente da sempre per tenersi sotto il controllo ma che stai a dire della figura della matrona nella 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 famiglia italiana ma la digestione cioè funziona che se viene accontato con l'acqua fredda poi la digestione si blocca Serena dai ti prego dai andiamo a fare il bagno su no guia caldo vado a fare il bagno no guia va no guia ma si guia 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 chi siamo mai siamo soltanto piccole parti dell'infinito universo chi siamo mai c'aveva ragione mia madre non la dovevo mangiare alla lasagna non me le dovevo mangiare guia guia istивendi Grazie a tutti